musica parate fratelli questo è il futuro eliminare tutti i bersagli di tronco Quella no. Unità d'assalto eliminata. 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 No ma delimiano! UAV alleato in arrivo. Marmery richiede supporto UAV. Perimetro stabilito. Quota a 10.000 piedi. UAV 50% di autonomia. Arriva un approvvigionamento alleato. Richiesta urgente. UAV triassegnato. Elstorm alleato in arrivo. È rovinato. Attenzione, UAV nemico in arrivo. Nemico a 10.000. Bersaglio a terra. Nomad demolito. Nomad demolito. Sistema. Sistema. Assegno. Sistema. Sì, stai fermando. U.A.B. ostile individuato. Ripper a terra! U.A.B. nemico in arrivo. Attenzione! U.A.B. nemico in arrivo. Eliminato! Attenzione! Approvvigionamento nemico in fuori. Sparito! 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 No, mandatelo vito! No, mandatelo! No, mandatelo! No, mandatelo! No, mandatelo! Arriva un approvvigionamento alleato! No, mandatelo! 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 No, mandatelo!